Andrew Garfield, ecco cosa penso di Donald Trump Intervistato dal The Sunday Times, Andrew Garfield non ha esitato a parlare di politica. A dimostrazione di quanto, l'attore di Thea Mazing Spiderman, sia cresciuto. Non solo professionalmente, e lì, a dimostrarlo, sono gli ultimi impegnatissimi ruoli. Andrew è cresciuto anche come uomo. E, da britannico con cittadinanza americana, ha detto ciò che pensa di Donald Trump. Senza peli sulla lingua. Il problema con la celebrità. C'è questa strana abitudine di mettere le celebrità sul piedistallo, e lo so per certo perché alcune persone quando le incontro mi dicono sei un dio, e io mi sento completamente a disagio, ha dichiarato Andrew Garfield nel corso dell'intervista. Lui, così riservato, con una vita privata che è protetta da un altissimo muro di privacy. Ma, ai microfoni del The Sunday Times, Andrew si è lasciato andare. Guardate chi c'è alla Casa Bianca. È più una celebrità, che un presidente, e l'abbiamo eletto noi. Il problema non sono solo le persone che hanno votato per lui, è proprio una questione culturale. Si idolatra ciò che è falso e privo di contenuti, e questo è il risultato, ha dichiarato il 34enne attore. Che dice non vuole essere, con le sue parole, eccessivamente critico. È perfettamente comprensibile tutto questo, ma mi piacerebbe che ci potessimo rendere conto di quanto ci siamo fatti fare il lavaggio del cervello, ha dichiarato. Decisamente, Donald Trump non è nei suoi favori e, come non lo è nei suoi, non è nei favori di una lunghissima lista di attori, cantanti e celebriti e svarie. Ma, l'intervista, non è stata per Andrew Garfield l'occasione per parlare solo di politica. Ha anche parlato di come ci si sente ad ininterpretare personaggi omosessuali, un ruolo che recita nel remake di Angels in America di Tony Kuzner, dove si cala nei panni del priore Walter, un omosessuale impegnato nella lotta al light durante l'epidemia del 1980, che decimò la comunità gay. Tony Kuzner ha scritto questo testo, e mi ha offerto la parte. Sono stato anche un attore normodotato che ha interpretato un disabile in reate. Mi piacebbe confrontarmi con chi trova sconveniente che io abbia recitato in questo due ruoli. Vorrei sedermi con loro in una stanza, e parlare della rappresentazione della disabilità e della comunità LGBTQ nell'arte, ha dichiarato. Andrew Weil Giardino. Ex fidanzato di Emma Stone, Andrew Garfield non ha paura di assumere posizioni scomode. E non teme il confronto. È, questa, una conversazione che vorrei fare a tu per tu. Non vorrei fosse una cosa pubblica, non sarebbe costruttivo. Quindi, entriamo in una stanza e parliamo. Lo dico per davvero, ha detto nel corso dell'intervista. Anche se alla comunità LGBTQ non è andata giù la frase da lui pronunciata qualche tempo fa a sono un omosessuale, ma senza l'atto fisico, anche se poi per sua ammissione tale frase sarebbe stata estrapolata dal contesto e quindi fraintesa. Per quanto ne so, non sono gay. Magari un giorno scoprirò di esserlo, e sono sicuro che sarà meraviglioso e che esplorerò anche quell'area del giardino. Ma, per il momento, sono concentrato sull'altra zona, che è meravigliosa allo stesso modo, aveva dichiarato nel corso di una chiacchierata al National Teatre. Interrogato ora su cosa intendesse, ha spiegato, voglio entrare appieno nella battaglia di una comunità che non dovrebbe essere costretta a combattere per affermare la sua identità. La sessualità non è una scelta, voglio aiutare la gente a capire che ognuno è nato come è nato. Per poi concludere, non ho ancora esplorato tutto. Voglio toccare con mano ogni cosa. È questo, il senso di ciò che ho detto. Se mi dovesse succedere, sarei felice di esplorarlo tutto, quel giardino. Grazie. Grazie.